Signori, il più grande spadaccino di Francia. D'Artagnan. D'Artagnan? Mia regina. È in atto un massacro. Raduna i moschettieri. Parala! Stiamo cercando Porto. Ti è ridotto come una calza bucata. A volte ti guarda negli occhi e ti fissa. Troppo vino. Ma vive sotto quelle tette. Questo tette. Il maestà, pardonate. Se ero apparente che la festa era così durevole, schiacciavamo un fiselino. Ma come cazzo parlo? Sono cavalli speciali. Si chiamano 1, 2, 3 e 4. Ma poi uno come fa a riconoscerli? Sono tutti uguali. Dal nome, no? 1, 2, 3, 4. Ma ti ha contato da là? Prova a contare da là. Ma che sei matto? Ma arrendo. Chi siete? Atto Saramista Tagnani Porto. Maschettieri! All'epoca non avevo ancora incontrato Dio. Che hai incontrato Dio, tu? Ma cosa? E dove? Ma è un modo di dire. Dai! Lo so che è un modo da dire. Quindi chiedi dove vuol dire che non lo sai. Se io voglio dire dove, lo dico. Dillo, vai. Dove, dove, dove? Però se non possiamo neanche uccidere a sangue freddo, allora lasciamo Baracca Buratino e dove? All right!